Ora il consueto collegamento con la redazione social, rimaniamo a Pescara dove questa mattina per i 1500 circa studenti del liceo Marconi l'avvio è stato in classe seppure sparpagliati in diverse sedi ma contemporaneamente decine di ragazzi e ragazze si sono radunati davanti la sede storica dell'istituto che come sapete verrà abbattuto e poi ricostruito. Lo vedo già in collegamento, lo saluto Luca Pompei. Luca allora buon pomeriggio, raccontaci un po' questa protesta, intanto è stata credo una protesta pacifica quella degli studenti. Assolutamente sì, un saluto a te Paolo, un saluto agli amici e te spettatori. Noi della pagina Facebook di Reteotto vi abbiamo voluto raccontare il primo giorno di scuola in una scuola che non c'è. Il liceo Marconi, una vicenda che vi abbiamo ampiamente raccontato, una scuola che dovrà essere abbattuta e ricostruita, una scuola che però secondo quanto ha fatto l'amministrazione provinciale di Pescara non garantisce al momento la copertura per tutti gli studenti, circa 1500. Sono state individuate delle sedi alternative ma in queste sedi alternative non sono ancora iniziati i lavori di adeguamento. Per cui gli studenti costretti a doppi turni con notevolissimi disagi, soprattutto per chi viene da fuori Pescara. Questa mattina ci sono stati vari momenti di questa lunga, lunghissima protesta iniziata poco dopo le 8.30 e conclusasi dopo le 13.00. I genitori e studenti si sono ritrovati prima qui davanti alla scuola in via Marino da Caramanico per protestare contro la situazione che è in atto e poi si sono trasferiti presso Piazza Italia, nella sede della provincia e del comune. Bene, qui sono stati ricevuti in un primo momento dalla dirigente della provincia, l'ingegner Urbani, che ha provato a raccontare quanto la provincia ha fatto o non ha fatto da questo punto di vista e ha garantito che entro un mese saranno completati i lavori nelle strutture alternative che dovranno ospitare questi ragazzi e che dunque il disagio durerebbe soltanto quattro settimane. Inoltre il presidente della provincia, che stamattina era impegnato in altri appuntamenti istituzionali, si è detto disposto ad incontrare studenti e genitori domani mattina per avere ancora ulteriori chiarimenti. Dopo questo confronto in provincia, come vedete abbiamo seguito passo passo tutta la giornata raccontandovi insomma quanto stava avvenendo, ci siamo trasferiti nell'aula consigliare della comune di Pescara dove genitori e studenti sono stati ricevuti dal sindaco e dall'intera assise civica. Il sindaco in questa circostanza si è limitato a proporsi come mediatore tra le istanze e dei genitori degli studenti e le autorità competenti per cercare di trovare soluzioni soprattutto per quel che riguarda ad esempio il servizio di trasporto pubblico con una mobilità completamente assente per questi studenti che devono affrontare quest'anno scolastico così carico di disagi. Contestualmente Paolo ci è arrivata questa mattina anche la notizia del crollo di un pannello in un'aula messa a disposizione dal dececco agli studenti del Marconi proprio durante le elezioni ed è stato un vero e proprio miracolo che questo pannello non ha colpito gli studenti. I dirigenti della provincia sollecitati su questo punto hanno detto che hanno subito sollecitato anche con feroce disappunto ci hanno assicurato l'impresa a risolvere immediatamente il problema. Come vedete un primo giorno di scuola surreale per i 1500 studenti dello storico liceo Marconi di Pescara un problema che si conosceva da tanto tempo ma come al solito si arriva all'ultimo giorno anzi non all'ultimo giorno ma ai primi giorni di scuola per affrontare in un certo modo la situazione. I ragazzi continueranno a fare sciopero, ce lo hanno annunciato già da oggi ma anche durante tutta la settimana per chi volesse può ovviamente scioperare per questa situazione. Staremo a vedere cosa accadrà domani mattina nell'incontro con il presidente Zaffiri ma lo stato della situazione davvero assurda e surreale è questa aliceo Marconi di Pescara.